Pronto? E' l'impacto, non è stessa molto più, dicembre, che giusto per ammai da altri che ha già jobato. Pronto? Coppa? Cof Quelle minglie da fa! Pronto! Cappatato, capatato, capatato Cappatato, capatato Cappatato, capatato Cappatato 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 Fata Guretti, Kappa, Fata Guretti, Kappa Fata Guretti, Kappa Grazie a tutti! Grazie a tutti!